Si va verso la conclusione della lunga udienza preliminare del processo Coingas. Oggi è stato il giorno delle ringhe dei difensori. Oggi non era la sede in cui entrare nel merito dei fatti, ma di valutare se, così come contestati i fatti, siano o meno sussumibili nelle fatti specie, cioè se costituiscano reato oppure no. Riflettori puntati soprattutto sulle difese del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, accusato di abuso d'ufficio e favoreggiamento, e del presidente di Estra, Francesco Macri, che invece si ritrova sulle spalle le accuse di peculato e sempre abuso d'ufficio. Abbiamo chiesto un luogo a procedere nei confronti dei nostri assistiti, perché a parere nostro non si integrano gli estremi dei reati che sono stati contestati. Non vi sono violazioni di natura penale, si tratta di questioni di natura squisitamente politica. Io ho chiesto che il giudice valuti l'impossibilità di configurare reati contro la pubblica amministrazione per quanto riguarda sia Coingas sia Estra, perché Coingas non è un organismo di diritto pubblico e quindi si applica la disciplina privatistica e non quella pubblicistica, mentre sul capo di imputazione relativo all'abuso d'ufficio ho evidenziato come Estra non sia una società controllata dal comune di Arezzo e quindi non è applicabile la Severino per tutta una serie di ragioni e di indici che sono espressamente stati enunciati dalla legge. La scorsa udienza il procuratore Roberto Rossi aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, ad eccezione di Sergio Staderini, ex amministratore unico di Coingas, nonché personaggio chiave dell'intera vicenda e l'avvocato Jacopo Bigiarini che hanno scelto il reto abbreviato. Per quest'ultimi la decisione del gruppo Claudio Lara è attesa per il 22 giugno, mentre per gli altri la partita sul processo o meno dovrebbe terminare a luglio.